Il leader della Lega ribadisce la sua contrarietà all'obligo del passaporto sanitario per accedere a diverse attività. Al parco acquatico ci può andare mio padre che ha 76 anni e non mio figlio che ne ha 18. È assurdo. Il Green Pass è una cazzata pazzesca che porta solo un casino totale. E quanto afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, sottolineando che l'85% di coloro che sono sopra i 60 è ormai vaccinato. La morte era lì. Ora dobbiamo rendere disponibile il vaccino per i 70-80 anni. Il tutto con prudenza, ma senza rovinare la vita e senza ammultare e chiudere in casa i ragazzi che hanno sofferto per un anno e mezzo. Per l'ex vice premier è giusto mettere in sicurezza i genitori e i nonni, ma adottare il Green Pass significa che devi averlo per andare in pizzeria, in discoteca. Significa il casino totale perché devono avere la seconda dose di vaccino tutti quelli che sono sotto i 40 anni. Ma prima che la facciano se ne parla a ottobre, se va bene, al parco acquatico ci può andare mio padre che ha 76 anni e non mio figlio che ne ha 18, ha proseguito Salvini. E' una cazzata pazzesca. Rovinare l'estate a pizzerie, ristoranti, alberghi. E non scherziamo sulle multe da 400 euro. Letta, Salvini irresponsabile, io sono per l'obbligo vaccinale se la Lega accetta che il proprio segretario dica che il Green Pass è una cazzata purtroppo non ci posso fare granché. Quella parola è da irresponsabili. Questa la replica del leader del PD, Enrico Letta dal palco della festa. Dell'unità di testaccio, a Roma. Io sono tra quelli favorevoli all'obbligo vaccinale. Non è che una cosa che non esiste, esiste e ci sono già obblighi vaccinali. Non stiamo inventandoci una cosa nuova. Con quello che è successo in questo anno e mezzo, io francamente mi chiedo cos'altro dobbiamo aspettare. La vaccinazione è un dovere morale di tutti noi e invito Salvini e Meloni a dire perché non si sono ancora vaccinati, ha aggiunto Letta e, riferendosi al leader leghista, ha coinvolto il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti. Nicola, fallo vaccinare a Roma e siamo più tranquilli. La vaccinazione è un dovere morale di tutti noi e siamo più tranquilli.